Mi chiamo Min Braccio di Ferro, passavo di qui. Mi hanno detto che era arrivato un vero maestro. Mi piacerebbe imparare da voi. Allora comincio io. In guardia! Da raccio di ferro, fai ridere. Ha una tecnica eccezionale. Sono sciabola volante, colpisco, scompaio e non lascio traccia. Hai certo imparato da gru del sud. Che cosa dici? Gru, gallina, anatra. Non mangio carne d'animale a tue zampe come te. Insolente! Se l'imubai è l'ultimo che è sconfitto, come puoi non conoscere il suo maestro gru del sud? E tu chi sei? Mi chiamo Gou, montagna della Fenice Splendente. Alza il servizio. Gou, io odio questo nome. Mi fa venire il volta stomaco. Peggio per te se ti chiami Gou. Sarei il primo ad assaggiare la mia spada oggi. Ferma, basta! Te lo ordino, sono in monaco G. Ah sì? E che ci fa un monaco in un posto come questo? Vergogno! Ma tu chi sei? Chi sono? Guarda! Lo sono il grande genio della spada! Armato dell'invincibile! Destino verde! Che siate aquile o leopardi! Abbassate la testa! E chiedete pietà! Sono il drago del deserto! Sono il drago del deserto! Colpisco veloce! E volo lontano! Oggi volo sulla cima del monte May! Sì! Domani! Sul monte Buda! Sì!